I carabinieri di Sala Consilina hanno sorpreso a Montesano sulla Marcellana un cittadino rumeno alla guida di un autocarro carico di rifiuti speciali pericolosi. L'uomo è stato bloccato mentre era alla guida del mezzo, risultato non idoneo al trasporto dei rifiuti, esprovvisto di qualsivoglia autorizzazione per la gestione dei rifiuti. I controlli messi in atto hanno permesso di risalire alla provenienza dei rifiuti, bidoni di oli minerali e elettrodomestici, bombole di gas e azoto, pneumatici, pezzi di carrozzeria e autoricambi, caricati in Basilicata e diretti in Campania.